Buongiorno a tutti, oggi parliamo di questo libro di Marco Scozzaro intitolato, come vedete, Digital Daily. Si tratta di una bozza di libro, si tratta di una copia unica, una maquette in attesa di pubblicazione che ben restituisce quello che è la ricerca di quest'autore. Marco Scozzaro è un artista che lavora con la fotografia, italiano, ma che vive ormai da tempo a New York e la sua ricerca si contraddistingue per un linguaggio molto contemporaneo che riesce a conciliare molto bene un'estetica fotografica che può strizzare l'occhio anche al passato, ma attraverso una modalità di formalizzazione, di convivenza delle immagini che tipica delle interfacce dei social media. Anche nella forma del libro, infatti, le immagini non vengono fruite singolarmente come in un tradizionale libro fotografico, ma convivono in una serie di livelli, così come fossero i vari piani, i vari livelli su cui le immagini si muovono all'interno di un profilo, un profilo social. Sicuramente questa è una delle sue cifre distintive su cui Scozzaro gioca ampiamente, sia nel momento in cui realizza un'opera cartacea, come può essere questa, sia nella misura in cui le sue immagini vanno a convivere all'interno di uno spazio espositivo in occasione di una mostra. Sfogliando la pubblicazione, quindi, vediamo che ci sono vari livelli, sia testuali, ma soprattutto visivi, fatte di immagini. Le singole fotografie hanno dimensioni differenti, sono stampate fronte e retro, e ognuna delle quali va a interfacciarsi con le altre. Quindi noi abbiamo sempre una visione che è frutto della sovrapposizione di quei immagini, e per vederle singolarmente dobbiamo spostare le precedenti per avere appunto una visione solitaria del singolo frame. Quest'idea dell'immagine nell'immagine viene poi sottolineata dallo stesso autore in alcune circostanze come questa, in cui c'è il libro, ospita un libro che ospita altre immagini, dove ci sono le mie mani che sorreggono il libro, ma ci sono anche le mani fotografate, che in questo gioco di sovrapposizione di rimandi ci fanno capire quella che è l'intenzione dell'autore, che in ogni punto della pubblicazione, così come in ogni momento espositivo, va a sottolineare questo concetto. Il libro, come vi dicevo prima, è intitolato Digital Daily. I daily sono quei supermercati aperti 24 ore su 24 che incontriamo negli Stati Uniti, ma sicuramente in modo massiccio e in prevalenza New York, che sono caratteristici sia per un'estetica che è un misto tra il funzionale e il kitsch. Spesso hanno delle carte da parati o delle vetrofanie che ci fanno vedere i maggiori e i più frequenti beni di consumo fotomontati, sommati tra di loro, sovrapposti, con un'estetica che è talmente kitsch da diventare bella, da diventare interessante, da diventare contemporanea. Ispirandosi a questo, Scozzeram trasla appunto in questa estetica i suoi contenuti immaginando nella forma del libro e nella forma delle opere una sorta di daily digitale, dove sono le sue immagini questa volta che in un gioco di scala, in un gioco di convivenza, di rimandi tra generi, trovano però un momento felice e gradevole di convivenza e di bellezza estetica, ecco potremmo dire. Quindi sfogliando il libro possiamo notare delle immagini di still life, delle immagini che sembrano frutto di micro azioni performative, delle immagini di dettagli, di particolari, anche questa estetica della fotografia ravvicinata, del particolare, della superficie, qualcosa che è caratteristica dell'estetica, della fotografia contemporanea e che Scozzeram abbraccia pienamente, più volte con una serie di rimandi. Quindi entriamo dentro la superficie delle cose, ne usciamo con delle immagini invece di più ampia veduta, che però hanno sempre una restituzione, una resa grafica o per la cromia che viene restituita o per un certo gusto nello strizzare l'occhio alla tecnologia, nello strizzare l'occhio agli strumenti di comunicazione, in un rimando continuo tra passato e presente, dove c'è una sorta di recupero di una archeologia elettronica e digitale che convive invece con la più stretta contemporaneità e con i mezzi a disposizione di noi tutti. Quindi vedete che le immagini vanno a sovrapporsi fra di loro, il risultato è quello di creare nuove immagini, queste nuove immagini sono il frutto della stratificazione delle stesse. Quindi questa doppia pagina diventa un'immagine, un'immagine che muta continuamente nel momento in cui noi andiamo ad agire sulle singole fotografie e andiamo a cambiare gli elementi come in un grande puzzle. Ci sono dei rimandi sicuramente, come dicevamo, all'estetica tecnologica, ci sono dei rimandi a un gusto e a un'estetica relativa che spesso nelle sue opere inserisce anche delle azioni performative che attingono a una modalità operativa che è vicina al mondo della musica così come al mondo di un certo tipo di televisione e quindi tutto il suo mondo va a interfacciarsi da immagini più private, più personali che documentano persone a lui care, così come invece composizioni still life che però vengono snaturate dalla loro funzione commerciale per essere elevate a qualcosa di altro e quindi fruibili in un ambito artistico. Sicuramente questo coinvolgimento, questa possibilità di interagire che abbiamo noi, i fruitori del libro, è senz'altro una delle caratteristiche più specifiche di questo libro che ci regala anche delle piccole chicche, potremmo dire, come questa immagine che come abbiamo avuto modo di dire in un altro video di questa rubrica, quello dedicato a Luigi Ghirri, è stato proprio Luigi Ghirri uno dei primi che si è avvicinato con la camera ai soggetti e li ha restituiti a pochi centimetri di distanza regalandoci delle immagini che non solo sono belle, non solo i nostri occhi risultano estremamente contemporanei ma risentono anche di un forte gusto grafico. Ecco sicuramente Scozzaro con immagini di questo tipo ci racconta, ci presenta anche una consapevolezza, una conoscenza dei grandi maestri della fotografia non solo internazionale ma anche nello specifico della fotografia italiana visto che buona parte della sua formazione, dei suoi studi attinge appunto al nostro paese con però fortissimi rimandi agli Stati Uniti dove poi l'autore si è trasferito perché probabilmente erano quelle le corde che già da tempo andava a suonare. Il libro quindi continua in questo susseguirsi di immagini che creano continui cortocircuiti tra di loro che ognuno di noi poi in base alla propria sensibilità saprà interpretare e saprà apprezzare tra di loro. La pubblicazione vedete è da un certo punto di vista povera nel senso che presenta questa rilegatura spirale che però è assolutamente funzionale e assolutamente giusta per questo tipo di libri proprio per garantire questo tipo di movimento, questo sfoglio che diventa una delle componenti di interazione che noi fruitori del libro abbiamo nei confronti delle immagini dell'autore. I pochi apparati testuali, il frontespizio con il titolo di Digital Daily e il Colophon dove c'è il nome dell'autore e l'anno 2016 sono presentati attraverso un cambio carta, attraverso un foglio di carta velina che distingue questo tipo di informazioni rispetto alle restanti. La pubblicazione quindi come vi accennavo è una pubblicazione attualmente a copia unica ma sicuramente meriterà in futuro una elaborazione, uno step successivo e la possibilità di poter essere goduta anche dal grande pubblico in attesa appunto di trovare un editore capace di restituire il senso dell'opera e al tempo stesso anche garantirne una sua distribuzione. Un caro saluto e a presto!